Sio Stoxx, ciao a tutti. Avanti ieri 14 novembre è successa qualcosina francoforte nella Germania della cancelliera Angela Merkel del cosiddetto confinamento leggero contro l'epidemia da coronavirus. Reuters parla di idranti usati dalla polizia contro i manifestanti anti-lockdown e basta, poi racconta solo, riporta i numeri della pandemia in Germania. Farò vedere i video degli scontri di Untergrund Navigator e Jessica Ramsch. Origot è stata conservatrice ungherese da un racconto diverso, più dettagliato, basato sulla testata tedesca Bild. Le proteste, la marcia, il corteo contro le misure anticontagio hanno scatenato la reazione della polizia, anche con gli idranti delle autobotti. Si stava violando la regola del distanziamento. Molti erano senza mascherina. Il punto è che si sono presentati gli antifa, anarcho-comunisti, che hanno bloccato la strada ai veri manifestanti anti-lockdown. Si sono frapposti tra i manifestanti e la polizia. Non volevano far partire il corteo pacifico. 150 antifa hanno attaccato da subito la polizia trasformando la protesta per le misure anti-covid a scontro con la polizia. Verso le 16.30 le forze dell'ordine hanno imposto di lasciare il luogo a tutti immediatamente, da qui l'uso dei cannoni ad acqua. Ancora una volta dei media si schierano a sinistra nascondendo la realtà dei fatti.